Asia Argento, dura reazione della madre di lei, chi è causa del suo mal pianga se stessa La mamma di Asia manifesta il suo disappunto per la storia d'amore tra la figlia e Fabrizio Corona, diventata di dominio pubblico su chi. Quello scoppiato tra Asia Argento e Fabrizio Corona è sicuramente il più inatteso degli amori, rivelato al pubblico con uno scoop del settimanale Chi. I due, infatti, sono stati paparazzati tra abbracci e baci appassionati. Il tutto accompagnato a una lunga intervista, rilasciata da Asia proprio al rotocalco di Alfonso Signorini. L'attrice ha colto l'occasione per confermare il flirt con l'ex re dei paparazzi. Una relazione che sembra non piacere affatto alla madre di Asia che su Twitter. Rispondendo alle domande di alcuni utenti, ha manifestato tutto il suo disappunto verso questo nuovo amore. . Video. . Il disappunto della mamma di Asia, mia figlia si è messa con un delinquente. . Daria Nicolodi, madre di Asia Argento, dopo la scoperta della relazione della figlia con Fabrizio Corona, su Twitter ha commentato il tutto senza peli sulla lingua. . Rispondendo alle domande poste da alcuni utenti, la signora Daria ha scritto, due signori di mezza età con felpa e cappuccio che si baciano, un po' inguaiati, un po' inguaianti. . Il problema sembrerebbe proprio Corona, un uomo che alla signora Nicolodi proprio non piace, dato che sui social l'ha descritto sempre come un poco di buono e delinquente. . Un durbotta è risposta a quello tra la madre di Asia Argento e gli utenti di Twitter, tanto che la donna è arrivata a bloccarne qualcuno con l'accusa di parlare a Vanvera. . Asia Corona, la dura reazione della mamma dopo lo scoop di Chi. . Da poche ore l'amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona è diventato di dominio pubblico, grazie allo scoop pubblicato dal settimanale Chi, video virgola e che ha letteralmente scatenato il gossip e i siti web. . L'attrice, poi, nell'intervista ha dichiarato che la madre è stata la prima a metterla in guardia, non ti fidare di lui, queste le parole di sua madre. . Dal canto suo, la Nicolodi, dopo l'uscita dello scoop, ha voluto chiarire la sua posizione a quanti sui social le chiedevano un'opinione, rispondendo tra le altre cose con un eloquente, chi è causa del suo mal pianga se stesso. . Una dura presa di posizione che conferma la contrarietà della mamma di Asia a questa nuova relazione della figlia. . Nelle ultime ore, poi le due sembrano essere ai ferri corti. . 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